Il Governo troppo spesso si rimette all'Aula, si rimette alla Commissione, quasi che ci fosse un timore di vincere o perdere. La politica è anche assunzione di responsabilità, dice bene il Presidente Cicchitto. Credo che si possa superare questo unpass che c'è, probabilmente anche per questa particolare funzione di questo Governo, che essendo un Governo tecnico e non politico, in qualche modo cerca di non scontentare nessuno, assumendo delle posizioni di comune gradimento, bisogna dare atto che la disponibilità, la mediazione c'è. Si può superare con un lavoro in Commissione e in Aula che consenta, nella democrazia dei voti, di raggiungere gli obiettivi più giusti per il Parlamento.